iniziata in maniera drammatica con il tremendo incidente avvenuto nella notte a Como in Via per Cernobbio. Adesso proseguiamo con la nostra linea diretta del mercoledì, torna puntuale mercoledì ore 11, Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale, che è qua con noi in diretta, in studio. Buongiorno Alessandro. Ciao Marco, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovato, è il giorno anche della ripartenza formale, proprio della ripartenza, perché 3 giugno, insomma quello che molti indicavano come una data importante, fase 3 la possiamo definire Alessandro? Sì, diciamo la cosa positiva che hai visto, ne parlavamo la settimana scorsa, i dati sui nuovi contagi, nonostante le riaperture che ormai hanno 7, 14, 18 giorni di vita, insomma hanno confermato un trend in continuo calo e quindi, come dire, fortunatamente questo malefico virus ha perso drammaticamente forza ed è meno aggressivo, meno contagioso e anche insomma quei weekend che sono stati insomma tacciati come movide, insomma che hanno restato preoccupazione, fortunatamente, fortunatamente non hanno portato conseguenze. Questo fa ben sperare Marco, questo fa ben sperare, il clima è fortunatamente cambiato, c'è una maggiore attenzione e consapevolezza da parte di tutti, ma soprattutto c'è fortunatamente un rallentamento molto forte nella capacità di questo virus di essere aggressivo da un lato e soprattutto di essere dannoso da un punto di vista clinico dall'altro, perché quei pochi casi che ci sono oggi sono fortunatamente molto molto meno gravi rispetto a quelli che abbiamo vissuto all'inizio dell'epidemia. Quindi, come dire, sono tutti segnali molto positivi, molto positivi che ci fanno sperare di poter chiudere, speriamo definitivamente, questa brutta parentesi di questo 2020 e di dire un piacevole addio a questo virus, insomma, per cui queste profezie di ritorni prossimo autunno, speriamo che siano profezie come quelle dei Maya sulla fine del mondo, insomma, che non si verifichino mai. Teniamo ovviamente le antenne molto alzate, faremo una bella campagna vaccinale contro l'influenza che certamente aiuta sempre, però ecco, viviamo con attenzione ma viviamo con uno spirito estremamente positivo perché abbiamo necessità di sistemare l'economia che in questo momento è quello che più sta dando segnali di preoccupazione. Ecco, questo tra l'altro è molto importante, ne parleremo anche dell'aspetto economico, Alessandro, perché le categorie in difficoltà sono variegate, insomma. Ho visto un segnale direi abbastanza confortante, l'altro giorno, non solo come, ma stanno riaprendo gli alberghi. Formalmente da oggi dovrebbero tornare i turisti, anche se sappiamo che la Svizzera ancora ha vietato agli ticinesi di venire a fare shopping in Italia. Come la vedi? Allora, i ricongiungimenti però sono possibili. Oggi si può andare e uscire dalla Svizzera per molti motivi, poi c'è questa, secondo me, presa di posizione sullo shopping in Italia che fa oggettivamente sorridere perché non ha nessuna motivazione di carattere sanitario, è una motivazione puramente di carattere antieconomico rispetto a due territori che sono diventati ricchi grazie alla collaborazione tra di loro. Cioè quando leggo alcune parole in questi giorni che citano il fatto che con la chiusura delle frontiere sia calata la criminalità in Svizzera, bisogna dire a queste persone che è calata anche in Lombardia e non certamente per la chiusura delle frontiere con la Svizzera ma perché il lockdown tra le conseguenze ha portato ovviamente fortunatamente anche il calo alla criminalità. Quando sento parole come quella di in questo periodo abbiamo evitato padroncini di venire a lavorare in nera. Questo è un clima come dire che non serve Marco, un clima che non serve perché il territorio dell'Insubria è diventato florido grazie a una straordinaria collaborazione e complementarietà tra i due territori. Insomma noi abbiamo dato tanto alla Svizzera, la Svizzera ha dato tanto a noi, ci siamo comunque sempre relazionati in maniera molto utile. Relazionarsi in questo modo con una sorta di antipatia rispetto agli italiani o alla indicazione di dire agli Svizzera di non venire a comprare in Italia è qualcosa che oggettivamente soprattutto in questo momento in cui c'è bisogno invece di stare insieme grida lo scandalo, grida vendetta perché poi sulle vendette poi si è sempre impoveriti tutti, si è sempre impoveriti tutti. Quindi rispondere a queste provocazioni credo che sia sciocco e non porti a nulla. Oggi abbiamo necessità invece di provare a risollevare il mercato economico. Sul fatto degli alberghi che riaprono una notizia positiva, io credo che ci sarà un bel turismo interno quest'anno, ci sarà la possibilità ovviamente di riscoprire quel turismo di prossimità che per tanti anni è stato dimenticato, lo abbiamo visto anche in questi weekend con le nostre valli, il nostro lago che è stato preso come dire in qualche modo d'assalto dai turismi, dal turismo milanese, Brianzolo insomma da quel turismo che ha fatto ricco il nostro territorio durante gli anni 80. Ecco è chiaro che quel turismo non basta per tutti però diciamo che in un momento, in un anno di sopravvivenza qualcosa che può permettere di sopravvivere. Perfetto, allora ci sono molti amici che ci stanno salutando e li salutiamo tutti ovviamente anche se ci sottolineano che c'è un rumore metallico vediamo se il nostro Alessandro riesce a risolvere anche dal punto di vista tecnico chiediamo scusa ovviamente ai nostri gentili ascoltatori, vediamo di migliorare ovviamente e questo è il microfono appunto per la diretta. Noi continuiamo allora con Alessandro Fermi che è con noi anche per i prossimi minuti per commentare un po' insomma questa ripartenza è questa che possiamo definire assolutamente come fase 3 di questa emergenza sanitaria che ovviamente non è ancora finita. Ecco tu come l'hai vissuta? E' una cosa che ti volevo chiedere questa notizia del primario della San Raffaele che insomma ha detto insomma tranquilli non esiste più e siamo qua e invece c'è chi ha frenato. Tu come l'avevi? Zangrillo ha detto sostanzialmente che il virus è clinicamente morto cioè non che il virus non c'è più. Dice che è clinicamente morto che riassume come dire in maniera un po' forte però è un concetto che oggettivamente ci sta e cioè il fatto che il virus oggi è molto meno aggressivo e dove aggredisce poco, dove aggredisce aggredisce in maniera molto meno virulenta rispetto all'inizio. Quindi come dire se non è clinicamente morto è comunque in fase morente. Questo è come dire un dato che i numeri confermano perché poi molti dei tamponi che sono stati processati in questi giorni fanno riferimento al personale sanitario che è stato contatto. C'è tutto comunque un sistema di oggi di verifica rispetto a chi è stato particolarmente esposto al virus che sta procedendo e quindi nella normalità dei casi rispetto alla popolazione oggi il virus è molto 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 assente, fortunatamente molto assente. Quindi c'è la possibilità di poter ragionare in un'ottica estremamente positiva senza abbassare la guardia, come dire facendo tesoro di quello che abbiamo imparato però senza abbassare la guardia perché questo è comunque fondamentale. Ma riprendiamo le nostre attività, insomma riprendiamole in maniera con estremamente fiducia. Cosa manca alla fine? Se uno sta attento non deve avere paura. Sostanzialmente adesso possiamo dire le piscine stanno riaprendo, hanno riaperto, le palestre hanno riaperto, i cinema anche, teatri, cinema. Sì, diciamo Marco manca tutta la parte più collegata al mondo scolastico, al mondo della didattica, insomma. Ma ecco per cui dal 15 molti comuni si stanno organizzando già per proporre alle famiglie dei centri estivi, dei campi estivi, insomma dei momenti di socialità tra i ragazzi e tra i bambini. Qui sono uscite delle regole sui quali i comuni si stanno già attivando in maniera molto 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 dinamica. E quindi quello è il tema che oggi dovremo affrontare maggiormente, soprattutto che il governo dovrà affrontare rispetto alla ripresa dell'attività scolastica di settembre. Che io credo che ripartirà in maniera assolutamente normale. Nel senso che al 15 di settembre quando riapriranno le scuole torneremo a scuola come siamo sempre andati, con un po' più di attenzione, magari lavandosi le mani un po' più spesso, magari cercando di tenere un po' di distanze. Ma pensare oggi su bambini che vanno alla scuola materna di poter mantenere il distanziamento sociale è qualcosa contro natura, per cui non possiamo neanche immaginare di creare un mondo che non può esistere. Perché i bambini si rincorrono per natura e quindi questo non è possibile. Su quelli un po' più grandi ovviamente un po' più di attenzione ci sarà, però se i dati sono questi qui e se effettivamente fortunatamente questo virus ha mollato la presa, io credo che da qui a settembre torneremo a scuola come siamo sempre andati. Quindi sulla ripresa scolastica tu sei assolutamente fiducioso. Ma non c'è alternativa Marco, non c'è proprio alternativa. Tu considera che in alcune nazioni la scuola ha già ripreso a funzionare, insomma per cui in alcune nazioni si è già riattivato il meccanismo della didattica. Noi siamo in Lombardia, la regione più colpita, ma in altri territori italiani già, come dire, la situazione è stata molto meno drammatica di quella che abbiamo vissuto noi in Lombardia, quindi sono assolutamente fiducioso che a settembre ripartirà così come l'abbiamo lasciata, ripeto, con qualche attenzione in più, con qualche regola in più, ma questo sarà sicuramente il futuro della scuola, non può non riaprire. Ecco, per quanto riguarda ovviamente la scuola vuol dire, poi andiamo anche con le vostre domande, ripeto, che potete fare qua in diretta al nostro numero con Alessandro, che è a nostra e a vostra disposizione. Dicevo, per quanto riguarda il mondo della scuola, quindi ovviamente tutto quello che ci ha collegato, pullman, trasporti, anche Trenord l'altro giorno diceva che insomma stanno... Hanno risaluito il 100% dei posti, sì. Com'è la situazione qui dei trasporti? Perché poi ovviamente scuola vuol dire anche tutto quello che c'è. Il tema del trasporto pubblico sarà un tema fondamentale, però io ragiono in positivo, due mesi fa mai avremmo pensato di poter tornare con attenzione in palestra o al lago o sulle montagne o nei ristoranti, per cui io sono convinto che tra due mesi e mezzo prenderemo il pullman probabilmente con la mascherina magari, ma come l'abbiamo sempre preso. Per cui è come dire, non è possibile in tre mesi stravolgere il mondo, ci sarà ovviamente un tema che dovrà essere complessivamente affrontato che è quello dell'orario di punta, dovremmo cercare di diluire il più possibile l'orario di punta perché l'utilizzo dei mezzi pubblici, se il clima comunque rimane questo, sarà meno usufruito dai cittadini rispetto all'utilizzo del mezzo privato e quindi cercare di diluire rispetto all'orario di lavoro, rispetto all'orario scolastico, l'orario di punta e quindi il traffico di punta sarà un obiettivo. Questo è un obiettivo su cui bisogna concentrarsi ma ci sono gli strumenti per farlo, insomma perché ad esempio il tema dello smart working andrà avanti, lo smart working può essere uno smart working anche parziale, per cui uno può iniziare a lavorare a casa, recarsi sul luogo di lavoro in un orario che non incide su quello di punta. Le scuole possono ovviamente pensare di diluire gli ingressi degli alunni per fasce di età in vari orari e questo diminuisce l'orario di punta, questo alleggerisce ovviamente il trasporto pubblico ma soprattutto va incontro a un'esigenza dei cittadini che probabilmente prima di poter tornare da un punto di vista mentale ad utilizzare il mezzo pubblico come l'hanno sempre utilizzato ci vorrà ancora del tempo. Però ripeto, vediamo da qui a settembre quale sarà il clima da questo punto di vista, però si può presupporre che da qui a qualche mese i mezzi pubblici saranno un pochino meno utilizzati quanto lo siano stati normalmente. Quindi il tema dello smart working parziale, il tema dell'orario di ingresso al lavoro, dell'orario di ingresso a scuola e cercare di diluirli in modo tale da non tornare sulle rade di punta rispetto al traffico è qualcosa su cui la politica deve impegnarsi ma ha tutti gli strumenti per poterlo fare. Salutiamo la nostra amica Sandra, salutiamo Elena e Alessandro anche poi Rosi, buongiorno anche a te e alla tua amica Cristina dalle Azzorre, nostra amica, anche tua perché è una tua grandissima estimatrice. Alessandro cosa ne pensi del resoconto, passami il termine che ha fatto il professor Remuzzi sul virus in Lombardia? Abbiamo già fatto questo accenno anche voi, sentiamo tu cosa ne pensi? Rifacciamo un po' il punto della situazione. Guarda Marco, sul tema del virus in Lombardia è chiaro che la regione di Hubei e la città di Wuhan che sono state come l'epicentro mondiale di questo virus hanno dimostrato che questo virus si è diffuso in maniera molto forte in alcune zone. In Italia sfortunatamente la regione è stata la regione Lombardia e l'epicentro l'abbiamo avuto nella Bergamasca, in alcune zone del Cremonese, nell'Odigiano da dove è partito e quindi abbiamo riprodotto lì. Fuori da Wuhan e fuori dalla regione di Hubei sostanzialmente i contagi sono stati molto pochi. quindi in Lombardia ovviamente c'è stata una situazione che non è paragonabile in nessun'altra regione italiana, nemmeno nel Veneto, nemmeno nel Piemonte per non parlare dell'Emilia Romagna. Quello che è accaduto da un punto di vista di diffusione del virus in Lombardia non ha paragoni in nessun'altra parte. Quali sono le cause? Sono assolutamente collegate alle relazioni commerciali. Poi sul tema... Ecco, tra l'altro c'è il nostro amico Luca, ne approfitto anche, che ci scrive se si sta facendo qualcosa, però sentiamo ovviamente... per il ritorno degli turisti stranieri qui da noi in maniera concreta a Gran Bretagna dice Germania, Olanda, Francia, cioè il classico forte turismo che caratterizza il lago. Questi giorni, non so se hai visto anche ieri, il turismo lombardo ha scoperto il lago di Covo. Il turismo locale sarà come dire la medicina che ci permetterà di sopravvivere quest'anno. Sul turismo internazionale ci vorrà probabilmente qualche tempo in più, anche se alcuni stranieri stanno già prenotando per luglio e per agosto in alcuni hotel del nostro lago. Parlavo proprio questa mattina con un operatore che aveva il bed and breakfast sull'alto lago, mi diceva che ci stanno arrivando delle prenotazioni. Dopodiché quest'anno è un anno che sul turismo internazionale non può che andare così. Il traffico aereo ovviamente è limitato, i posti a sedere saranno limitati, le compagnie stanno riniziando a riprogrammare i voli. Questo è un altro tema. Io e Rovarese in questo tour che sto facendo e abbiamo fatto uno spaccato su Malpensa. Malpensa finalmente stanno riniziando a riprogrammare i voli per cui inizia come dire a rimuoversi. Però basta stare una giornata all'aria aperta come la giornata di ieri e notare il fatto che non si sente un aereo volare. Cioè questa è una cosa che probabilmente quando torneremo a sentire un aereo lo vedremo come con gli occhi di un bambino. Insomma con gli occhi, ah guarda che c'è un aereo che vola. Questo perché effettivamente il mondo da quel punto di vista lì si è completamente fermato. Sta piano piano riniziando ma quest'anno sul turismo internazionale sarà molto limitato. Chi verrà qui? Verrà qui come dire gli olandesi sul lago i tedeschi sul lago alcuni francesi ma il turismo europeo che riesce a muoversi o con mezzi propri o con mezzi di trasporto che non siano che non siano l'aereo è un turismo sul quale possiamo ancora riuscire ad accedere. Si sta facendo qualcosa di importante anche come ragione proprio per cercare di riportare qui ma del resto Marco sarà fondamentale come dire ristabilire un clima da un lato di fiducia per chi viene qui cioè il turista che viene qui oggi non chiede più solamente di mangiare bene di dormire bene di poter vedere dei bei posti di poter fare sport oggi chiede anche di avere garanzia rispetto all'ambito sanitario cioè quando uno prenota si informa oggi se nel caso di qualche problema sanitario in quel posto ci sono le condizioni per poter essere curato che è un motivo in più quindi dobbiamo ridare fiducia che la nostra sanità è comunque una sanità all'avanguardia nel mondo e il secondo aspetto è ridare un'immagine a Lombardia che non è quella del virus perché purtroppo negli ultimi mesi la Lombardia è stata collegata all'epicentro europeo sicuramente ma italiano certamente del virus quindi la Lombardia oggi ha questo questa immagine va recuperato quell'aspetto lì ma ce la faremo ce la faremo nei prossimi anni sicuramente ripartirà abbiamo fortunatamente vinto le Olimpiadi Invernali del 2026 che comunque sono un motore sono comunque un volano così come è stato per Expo e forse di più per cui ci vorrà un pochino di tempo quindi quest'anno turismo europeo e turismo italiano turismo di prossimità io credo che dal prossimo anno ripartirà ovviamente il turismo un po' più internazionale che ovviamente caratterizza molto alcune strutture del nostro lago perché sono alcuni alberghi tipo Villarest insomma che ha un turismo dei clienti prettamente che arrivano da altri contenenti che dovrebbero ripartire mi hanno detto anche ripartito l'altro giorno il Barchetta il Metropol Suisse anche alcuni dell'Alta Sponda Bellagio insomma stanno per rimettersi in moto è chiaro che ovviamente loro hanno del personale importante perché due camere o 50 il personale è assolutamente assolutamente Marco quindi quello ci vorrà un pochino più di tempo e siccome quest'anno sarà un anno ripeto per loro di sopravvivenza fortunatamente parliamo di strutture che hanno delle fondamenta molto solide e quindi questo è un dato di partenza dopodiché per tornare al ragionamento che facevamo prima risponde a questa domanda sul tema del contagio tu pensavi anche che io settimana scorsa ho raccomandato che sono stato a Bergamo e uno degli elementi su cui è stato posto l'attenzione rispetto al perché della Bergamasca tu pensavi che è stato fatto riferimento alla partita di ritorno di Champions League tra Atalanta e Valencia non tanto era porto è chiuso quella partita ma c'erano i bar stracolmi molto seguita ci sono stati quattro gol per cui questi quattro gol ovviamente hanno favorito gli abbracci i contatti e gli affesteggiamenti potrebbe uno degli elementi per cui il contagio della Bergamasca è imputabile anche a quella partita dopodiché tutto è nato da Codogno che uno pensa che è stato paragonato a Vaux in qualche modo nel vento in realtà sono due realtà completamente diversi Vaux è un paesino sperduto che ha 5-6 mila abitanti ma non ha grandi relazioni Codogno invece ci sono almeno tre aziende particolarmente importanti che hanno delle relazioni nazionali e internazionali sull'automotive molto forti molto importanti ed è lì che ovviamente è arrivato in qualche modo è arrivato questo virus vedo le vostre facce un po' preoccupate il nostro tecnico qua che sta facendo c'è l'audio che non è ottimale c'è un audio non ottimale sta cercando di ottimizzare ancora l'audio intanto noi ne approfittiamo salutiamo la nostra amica Anna ciao Anna buongiorno Luca dice presidente Fermi è convinto che tornare alla normalità di prima sia veramente il meglio punto di domanda e non che ripensare una nuova normalità anche a virus sparito sia necessario e in effetti io credo che alcune no no ma assolutamente alcune precauzioni ma anche alcuni stili di vita ci porteremo probabilmente per sempre cioè il tema dello smart working che abbiamo per necessità abbiamo fatto virtù insomma abbiamo sperimentato questo sistema di lavoro in alcune casi ha funzionato molto bene è chiaro che per poter utilizzare quello che di buono abbiamo imparato in questi mesi c'è necessario di fare anche degli investimenti io ad esempio ero a Sondrio settimana scorsa e uno dei temi che hanno sottoposto è quello della fibra della fibra oggi l'Italia non ha una fibra particolarmente sviluppata anche a Como anche a Como me l'hanno chiesto è chiaro che l'operatore economico nei posti molto popolosi ha facilità nell'investire per portare la fibra in territori invece come la provincia di Sondrio che non è particolarmente popolosa c'è un investimento pubblico per arrivare con la fibra per cui è chiaro che alcuni meccanismi che abbiamo imparato e alcune modalità di vita ce li porteremo sulle modalità invece in senso stretto di vita una nuova normalità ci sarà una nuova normalità dopodiché saremo tutti molto più attenti all'igiene delle mani della bocca l'utilizzo della maschina per un po' di tempo finché servirà insomma per cui questa roba qui ce la porteremo dietro dopodiché Marco io credo che se il virus crepa come tutti speriamo che stia morendo credo che tra un anno tra un anno va bene tra un anno torneremo a vivere come abbiamo sempre vissuto però ecco però alcune modalità sul tema dell'orario di punta sul traffico sullo smart working alcuni aspetti dobbiamo come dire portarceli perché hanno dimostrato in questi mesi poter essere comunque utilizzati anche nella normalità anche la normalità ecco allora poi cambiamo argomento adesso e parliamo di cassa integrazione perché ci sono nostre amiche una è Sandra che saluto l'altra è Luciana ciao Luciana anche a te Alessandro per la cassa integrazione non ancora arrivata si può fare qualcosa ci dice Luciana ma anche Sandra che aggiunge la stessa cosa dice che la cassa non è ancora arrivata ed è effettivamente un problema tu lo sai allora magari chiediamo di specificare che tipo di cassa perché la cassa integrazione inderoga è gestita dalla regione e per cui ci possiamo interessare se ci mandano una mail ecco Sandra so esserci dei ritardi particolarmente particolarmente lunghi però se hanno la cortesia di scriverci magari via mail la loro posizione la verifichiamo sicuramente benissimo bravo perfetto fateci sapere quindi sia sara che Luciana marcoermualdi chiocciolaciocomo.it mandateci la mail mi fate o se volete scriverlo in diretta se lo scrivete in diretta come volete voi non c'è problema però ecco questa cosa qui la verifichiamo su quella non regionale quella gestita direttamente dall'Inps ci sono dei ritardi leggevo oggi che come alcuni dati che sono oggettivamente preoccupanti fastidiosi anche perché si parla di tre mesi di attesa insomma ecco bravo e tu sai la situazione piccoli ma scherzi assolutamente piccole imprese artigiani partite IVA famose insomma sono situazioni che se non hai l'immediatezza lì non riesci ad andare avanti assolutamente Vera dice buongiorno un commento sulla discussione della tassazione frontalieri che è tornata di grande attualità ecco che tema quello dei frontalieri il tema dei frontalieri io ho chiarito ovviamente la mia posizione ma credo che sia la posizione che abbiamo sempre difeso almeno noi lombardi che è quella che l'accordo insomma sulla tassazione sul ristorno dei fondi ai comuni firmato nel 1974 che ormai ha 45 anni di vita di storia abbia dimostrato di funzionare molto bene dopodiché come lei sa è stato parafatto nel 2015 un nuovo accordo che è molto peggiorativo rispetto alle condizioni di quello del 1974 sia sul tema della tassazione perché prevede una doppia tassazione italiana e svizzera sia sul tema dei ristorni comuni quell'accordo deve essere ratificato da Berna che ovviamente lo ratifica domani mattina e dal Parlamento italiano su quello c'è stato un acceso dibattito politico è stato come dire in questo momento sono passati 5 anni e il Parlamento fortunatamente non ha ratificato quell'accordo la linea è quella di come dire di mantenere il più possibile le condizioni che hanno governato secondo me molto bene i rapporti dal 1974 oggi quindi mantenere quell'accordo quell'accordo e qualsiasi modifica di quell'accordo non può che essere non deve essere a danno né dei lavoratori né dei territori di confine perché perché ha funzionato bene ha 46 anni di vita io capisco che gli svizzeri continuano a fare pressione per modificarlo noi dobbiamo fare capire che non si può modificare in peggio insomma caro Alessandro sia Sandra che salutiamo e che Luciana ci confermano che è gestita dall'Inps perché il datore di lavoro il datore di lavoro non l'ha anticipata ci dice Luciana Sandra ci aggiunge 32 faccine tristi no adesso si può anche purtroppo sorridere Sandra ma non voglio essere irriguardoso nei tuoi confronti mi rendo conto ecco quindi sono due situazioni identiche quindi gestite dall'Inps in questo caso che cosa si può fare Alessandro la domanda è quella diciamo proprio il problema è che appunto queste sono quelli gestiti dall'Inps abbiamo solicitato più volte l'Inps rispetto a una velocizzazione tutte le settimane dicono che sono in fase di definizione e di liquidazione lo faremo anche questa settimana però ti posso assicurare che ci sono state sia direttamente sia indirettamente sia attraverso le parti sindacali sia attraverso i sindacati molte azioni l'Inps conferma tutte le settimane di essere pronto risolecitiamo risolecitiamo anche se come dire come regione non abbiamo competenza rispetto a questo tipo di cassa integrazione perché noi gestiamo solamente la deroga quindi quella che vale per le imprese sotto i 15 addetti esatto salutiamo Miriam che ci ringrazia ciao caro Miriam buongiorno a te Riccardo Castiglioni ci chiede poi passiamo ancora a Luca che ci ha fatto un'altra domanda Riccardo dice da oggi ovviamente sono cambiate un po' le modalità modalità di viaggio con i conviventi in macchina ma con i conviventi in macchina no scusa con i non conviventi ho sbagliato scusa chiedo scusa con i conviventi non c'è problema con i non conviventi in macchina bisogna stare avanti uno dietro l'altro con la mascherina io non ho notizie differenti rispetto a questo rispetto alla macchina io non ho notizie di modifiche io ho letto anche proprio questa mattina su Sky TG24 che la moto se non è un tuo convivente tu non puoi andare ecco è giusto? confermi in teoria da un punto di vista teorico ha anche un senso ci mancherebbe perché se il casco è aperto e quello davanti starnutisce quello dietro gli arriva in faccia tutto e quindi voglio dire ci mancherebbe ha un senso dopodiché secondo me sono tutte cose che da qui ai prossimi giorni verranno piano piano rallentate nel senso che di sicuro da oggi non c'è più l'autocertificazione no no quella è morta fortunatamente 15 giorni fa 15 giorni fa l'autocertificazione non c'è più da oggi si può muoversi tra le regioni insomma stanno provando di riaprire le palestre stanno provando di riaprire le piscine centri anche fitness e compagnia bella ho visto che insomma stanno cercando di aprire è chiaro che per loro sarà veramente un anno difficile Marco perché io ho visto alcune palestre che si stanno organizzando straordinariamente con le prenotazioni ho visto del lavoro straordinario stanno facendo veramente un lavoro pazzesco dopodiché quest'anno loro dovranno veramente sopravvivere perché andare in palestra su prenotazioni gestire prenotazioni sanificare gli attrezzi dopo che li hai usati cioè oggettivamente la palestra è come dire l'ambito su cui è molto più difficile porre in essa quelle misure di precauzione che sono state che sono state adottate ma però si stanno attivando meno rischioso e meno problematico il tema delle piscine se non per la parte degli spogliatoi purtroppo quello più penalizzato sono le palestre così come penalizzato il mondo dello spettacolo che vive ovviamente di assembramenti il mondo dello sport perché poi il calcio non tanto il calcio in se stesso scrive proprio anche Ferruccio in questo momento Ferruccio della Valle Ale buongiorno buongiorno Marco torno sul tema sportivo allora ne approfitto subito da sabato a Cantù in effetti ho visto che abbiamo iniziato a proporre sport individuale seguendo i protocolli regionali ai nostri ragazzi del calcio gruppi di sette ragazzi ogni istruttore 24 in un'ora è una idea importante quella di Ferruccio si cerca di però Ferruccio molto bravo e come dire lo sport non è solo il mantenimento del mondo sportivo delle associazioni di lettantistiche sportive ma è tanta socialità Marco adesso sullo sport di squadra si andrà verso una graduale apertura riparte il campionato di calcio oggi in qualche modo si stanno allenando e quindi anche lì si andrà verso una riapertura loro si stanno già organizzando Ferruccio dice che negli occhi dei ragazzi c'era la gioia la grande gioia di tornare ad allenarsi immagino Ferruccio che sia una cosa dopodiché spesso molti valutano il calcio come dire rispetto si pensa al calcio quando sono mille altri problemi però il mondo calcio non gli stipendi ai giocatori che sono fuori 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 logica ma il mondo del calcio da lavoro a migliaia e migliaia di persone cioè la chiusura degli stadi la chiusura degli stadi toglie lavoro a migliaia e migliaia di persone per cui come dire ogni ambito deve essere sempre un pochino approfondito quando riparti dal calcio da un punto di vista economico sono molte famiglie che torneranno a lavorare perché c'è sia sulla parte giornalistica sia sulla parte come dire delle pulizie sia sulla parte c'è tutto comunque un mondo che gira attorno alla macchina molto ricca del calcio che comunque dà lavoro a tantissime famiglie lasciamo perdere il tema dei calciatori però ecco il calcio non è solo lo stipendio dei calciatori il calcio è veramente una macchina che è datrice di lavoro per tantissime famiglie 11 e quasi di 40 11 e 38 diretta facebook diretta radio Alessandro Fermi presidente del consiglio regionale qua con noi anche oggi sempre in diretta 15 dice Riccardo in 4 in macchina non conviventi non si può grazie secondo me no oggi secondo me Riccardo 2 sì 2 sì 1 davanti 1 di dietro ma 4 4 non conviventi ovviamente dice con la mascherina ma no ovviamente sì quello lo davamo per scontato sì sì con la mascherina anche se sta in 2 anche se sta in 2 però 4 non conviventi io non ho trovato nessuna norma che autorizza questo probabilmente ci si arriverà dal 15 di maggio 15 di giugno scusa 15 di giugno ci si arriverà ci si arriverà lì però oggi io non ho non ho letto nessuna nessuna norma che autorizza questo insomma Mara dice buongiorno Alessandro è un piacere ascoltarti e salutiamo Mara salutiamo la nostra amica Cristina ovviamente che ci ha scritto prima e allora Sandra e Luciana ci hanno già scritto della cassa ecco Irma Irma Missaglia ciao ciao Alessandro anche la cassa in deroga non è arrivata ti mando una mail grazie questo lo verifico io la cassa in deroga la verifico direttamente perché alcune questioni le ho anche come dire sono risolte perché a volte sono questioni formali per cui Irma scrivimi che te la verifico io Irma e Alessandro ti risponderà Rosi buongiorno Alessandro sempre positivo anche su argomenti spinosi sentire parlare lei riempie il cuore di gioia grazie Rosi se basta così poco una bella pacca sulla spalla Rosi bene ci fa davvero comunque molto piacere che apprezzi basta poco Luca il turismo sentivo ieri sulla possibilità di allungare la stagione no se ne è parlato molto bisogna creare più eventi avere denaro e accordi con commercianti e albergatori si può fare secondo te la possibilità di allungare questa stagione soprattutto in quest'anno diciamo che la nostra provincia negli ultimi anni già la stagione si è allungata molto nel senso che è un po' complice il clima che spesso fa settembre settembre anche bello anche arriva la metà di ottobre anche novembre dicembre diciamo che quest'anno l'inverno non c'è stato però diciamo che comunque gli eventi programmati rispetto alla stagione un po' più un po' più molle del turismo aiutano ricordiamo poi sempre l'evento a citare i balocchi che è un evento importante della città di Como che è un evento che riesce a portare del turismo del turismo dopodiché è chiaro che come dire rispetto al tema del prossimo inverno dovremo incrociare dita ma io sono fiducioso rispetto a queste persone che paventano la possibilità di un ritorno del virus ecco come dire oggi questa previsione ha una certificazione scientifica pari a zero quindi come tirare una monetina dire che a ottobre novembre tornerà una nuova una nuova ondata di virus è come dire il contrario per cui evitiamo di dirlo che non aiuta nessuno se dovesse tornare l'affronteremo partendo da condizioni ben diverse da quelle che usate oggi detto anche questo non è detto che torni se torna torna nuovamente in Lombardia come epicentro potrebbe essere un epicentro in un'altra parte d'Europa insomma abbiamo già dato come Lombardi credo no? assolutamente abbiamo già dato però io sono come dire più per quelli che sostengono che alla fine ha fatto il suo corso e lo abbiamo salutato poi non è detto che non tornerà un altro virus nei prossimi anni in qualche modo metterci nuovamente in crisi però ecco diciamo che adesso anche se per qualche anno a parte l'influenza stagionale non abbiamo ulteriori pandemie di questo tipo ne saremmo solo contanti tra l'altro mi ha scritto anche sulla posta elettronica il nostro amico Francesco che mi diceva appunto di chiedere al Presidente Fermi adesso mi stavo dimenticando ma l'ho recuperata al volo la situazione negli ospedali della nostra regione adesso come siamo messi Alessandro? è una situazione sotto controllo? io a Bergamo forse lo ho detto la volta scorsa ho fatto un po' il giro sono stato anche all'ospedale del campo che hanno restito in Fiera Bergamo col contributo straordinario degli alpini oggi la situazione è assolutamente di ritorno alla normalità nel senso che le terapie intensive si sono molto alleggerite oggi anche se uno dovesse contrarre il virus ma ripeto il contagio è particolarmente basso se non nullo ha possibilità di essere curato e preso in cura preso in carico nel miglior modo possibile stanno iniziando a riprogrammare tutta una serie di interventi che sono stati sospesi questo è l'altro tema Marco perché nel periodo di emergenza gli interventi non urgenti che non sono urgenti da un punto di vista clinico ma per la persona che deve farli sono urgenti se uno deve fare operazionale anche ovviamente la ritarda di 3-4 mesi comunque fai fatica ad ambulare per 3-4 mesi per cui per il soggetto sono urgenti non sono urgenti da un punto di vista clinico stanno riprendendo ovviamente la riprogrammazione di tutta questa serie di attività che sono state sospese in questi mesi per cui la situazione degli ospedali è assolutamente dopodiché questa esperienza deve insegnare insegnare a come prepararci nella denegata ipotesi che non vogliamo neanche prendere considerazione in cui dovesse tra qualche anno ripresentarsi una nuova epidemia di questa natura per cui l'abbiamo affrontata ovviamente col massimo dell'impegno ci ha insegnato che alcune cose vanno corrette ci ha insegnato che non si è mai pronti a tutto per cui di questa esperienza dovremo far tesoro per prepararci speriamo inutilmente speriamo inutilmente qualora dovessimo trovarci nuovamente ad affrontare una situazione del genere purtroppo a volte alcune preparazioni le puoi cogliere solo nel momento in cui affronti il problema beh in questo caso possiamo dire Alessandro che comunque dovesse malauguratamente ritornare questo o un altro video su qualche altra cosa similare siamo certamente pronti siamo certamente più pronti ma per essere ancora più pronti qualche cosa dobbiamo correggerla qualcosa dobbiamo correggerla perché ad esempio sulla medicina territoriale non tanto quella spedaliera cioè che come dire la medicina spedaliera lombarda sia riconosciuta da tutti tant'è che molti vengono fuori regione o fuori nazioni a farsi operare qui come un'eccellenza è evidente sulla medicina territoriale che possa affrontare in una maniera ancora più strutturata e più preparata una ipotesi che speriamo non si verifichi mai ma è bene prepararsi lì c'è necessità probabilmente di intervenire per potenziare la medicina territoriale attraverso i medici di base con un nuovo patto con i medici di base che devono tornare ad essere come dire fulcro della sanità territoriale con i sindaci Marco perché i sindaci hanno fatto un grandissimo lavoro ma bisogna riconoscere loro anche un ruolo un ruolo importante nel caso nel caso di emergenza perché in questo io ho raccolto in queste situazioni anche delle situazioni di imbarazzo per cui qualche sindaco che non era informato non aveva messo conoscenza perché nei protocolli non figurava per cui bisogna dargli il ruolo rispetto a questo quindi costruire una rete che possa esserci come dire metterci in condizione di essere assolutamente pronti nel caso in cui dovesse verificarsi sono un'agenza di questo tipo ok allora salutiamo la nostra amica Cristina che ci saluta un grande abbraccio rinnova la stima nei nostri confronti ciao Cristina ciao Cristina dice che ci ritroviamo settimana prossima perché ha avuto problemi anche con la connessione nostra evidentemente a noi risulta tutto perfetto però evidentemente ci sono stati dei problemi salutiamo Mariangela salutiamo anche la nostra amica Miranda e poi un'altra cosa che volevamo approfondire ecco Alessandro sì mi stavo però dimenticando e poi mi ricollego anche una cosa personale con Alessandro Fermi in settimana l'altro giorno anche un'altra bella realtà che è il motoclub di Broncino di Albavilla ha dato un aiuto importante ma non è solo il motoclub dopo adesso dopo spieghiamo perché ride Alessandro ma non è solo il motoclub ma ci sono state tante altre belle realtà no dopo andiamo sul motoclub io so perché sei arrivato qui perché mi vuoi prendere in giro però simpaticamente mi hai scritto un messaggio e quindi so già dove vuoi arrivare però parliamo della parte seria la parte bella che è come dire uno dei temi che inevitabilmente già oggi ma nei prossimi mesi dovremo affrontare che è quello delle fasce deboli delle persone che hanno ovviamente bisogno questi sono dei bei gesti il motoclub Broncino ha fatto un'iniziativa molto bella preparando dei pacchi alimentari da destinare alle famiglie che hanno bisogno e devo dirti che questa solidarietà poi si copia per cui il meccanismo di emulazione è anche un meccanismo che favorisce poi lo stimolo e quello che diceva il motoclub Broncino è fondamentale anche la tempistica perché in una certa fase c'è stato come dire un grande attivismo adesso sta un pochino rallentando ma perché pare che l'emergenza sia finita è finita l'emergenza sanitaria ma l'emergenza sociale Marco è appena iniziata e probabilmente purtroppo quanto durerà nei prossimi mesi almeno fino alla fine dell'anno il numero di famiglie che erano già in difficoltà prima è destinato come dire a mantenersi per quelle che ovviamente lo erano già ma ad aumentare rispetto a nuclei familiari che mai hanno avuto bisogno quindi iniziative come queste sono veramente importanti e anche il pubblico il governo ha fatto una misura che deve essere rifinanziata proprio per i pacchi alimentari per il sostegno alimentare alle famiglie dovrà essere rifinanziata perché è fondamentale stare vicino alla gente che per mille motivi da qui alla fine alla fine di quest'anno o al momento in cui ripartirà in maniera importante magari ci sarà anche un rimbalzo economico magari ci sarà anche un 2021 particolarmente florido ce l'auguriamo tutti ma da qui a lì dovremo dare veramente dei segnali di sussidio alle persone che hanno oggettiva necessità molto caro e dopo di che va strutturato va strutturato perché credo che da qui alla fine dell'anno le famiglie che avranno bisogno saranno destinate solamente ad aumentare Luca dice io sono per chiudere il frontiere con la Svizzera dopo aver riportato in Italia i soldi depositati ma Luca cita un aspetto loro guardano sempre il bicchiere loro in realtà guarda che in quel bicchiere abbiamo riempito molto non solo come soldi che sono stati danti alle banche svizzeri da parte di tantissimi italiani ma anche con la forza lavoro che abbiamo portato là cioè senza la forza lavoro italiana la Svizzera il cantiere svizzera chiude nel giro di una settimana insomma per cui assolutamente sì assolutamente sì ecco a proposito parlavamo prima del motoclub di Broncino dove il nostro Alessandro e vabbè lo diciamo ha iniziato una carriera che però è finita su no allora Marco Rumualdi mi prende in giro perché il motoclub Broncino quando ha citato che lo presenta questa iniziativa ha scritto ex atleta del motoclub Broncino allora lui pensava che fosse una stupidata io invece ho raccontato che in realtà quando avevo 18 anni avevo iniziato a fare a correre con la moto da enduro avevi 18 anni eri giovanissimo tra i 16 e 18 corso dopodiché è arrivato mio fratello con una cilindrata in meno che ha iniziato anche lui a correre abbiamo fatto una prima gara a Massa Carrara io avevo tre anni in più e la 125 lui tre anni in meno la sua prima gara è l'80 e mi ha soronamente battuto io umiliato dal fratello più piccolo in casa ho deciso di appendere la moto a chiodo dopodiché mio fratello ha vinto tutto quello che si poteva vincere con la moto da enduro l'europeo l'italiano ha fatto i mondiali quindi se avessi saputo che diventavo un campione sarei andato avanti a correre ma a quella gara con mio fratello che mi ha umiliato con una cilindrata in meno per me è stata non sono mai riuscito a superarla esatto ecco lo abbiamo detto con simpatia proprio perché la situazione è insomma assolutamente simpatica e però l'altro giorno il motoclub broncino ha fatto una cosa molto carina adesso cogliamo l'occasione per ringraziarli ancora ovviamente lui loro il sindaco di Alba Villa ovviamente che ha dato un aiuto molto importante ovviamente Paolo torna sulla piscina olimpica chiusa a Como le persone che non possono usufruirlo il lido di Via Leggeno abbandonato dovrebbe riaprire in questi giorni quello di Villa Olmo però effettivamente anche la situazione delle strutture sul nostro territorio non è il massimo vero Alessandro non c'entra nulla con l'emergenza no non c'entra nulla con l'emergenza la vicenda della piscina di Muggio è una vicenda che ha radici molto molto lontane l'assessore Galli so che come dire ci sta mettendo tutta la passione che 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 fa parte della sua natura insomma Marco è una persona molto operativa dopodiché la burocrazia non so cosa sia successo sa di fatto che quella piscina è chiusa e probabilmente non c'è altra via se non quella di rifarla completamente insomma continuare a mettere delle pezze forse meglio come dire fermarsi un attimo sistemarla rifarla nuovo e ripartire quindi potrebbe essere questa la soluzione non lo so continuiamo a mettere toppe poi alla fine la toppa rischia di essere peggio del buco siccome qui parliamo di infiltrazioni di perdite d'acqua di situazioni che vanno avanti da anni cioè alla fine quella piscina probabilmente ha dato e ha finito la sua la sua la sua prima la sua prima fase è necessario probabilmente fermarsi un attimo e rifarla so che è arrivato anche un un progetto una proposta da un'importante azienda comasca che forse era quella che aveva anche realizzata bisogna accogliere secondo me queste occasioni che arrivano dal mondo privato perché il pubblico magari da solo non ce la fa e quindi però sulla pgm io come dire continuare a mettere delle pezze poi ogni anno essere in queste condizioni non so quanto ne valga la pena ecco un'ultima cosa poi chiudiamo il nostro fotoletto di quest'oggi ecco l'altro giorno mi hanno scritto anche un'altra cosa Alessandro sulla pesca sportiva la pesca sportiva qualcuno diceva che non è possibile qualcun altro invece sosteneva è possibile farla la pesca sportiva sul sul lago di con perché attenzione Marco attenzione tema la pesca è assolutamente consentita è una delle prime cose che è stata consentita dopodiché sul 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 primo vaccino tu sai che c'è la vicenda del regolamento di polizia locale ok il regolamento di polizia locale che io ho come dire pubblicamente anche qui criticato vieta oggi di pescare sostanzialmente su tutto il primo vaccino allora il riferimento era di un ragazzo io ho chiesto di modificarlo quel regolamento cioè che è il regolamento della polizia locale è vero giusto è il regolamento di polizia locale teoricamente non si potrebbe andare lì a pescare tant'è che avevamo commentato una sanzione elevata a questo ragazzino che pescava insieme al papà non so bene dove ma probabilmente lì davanti tra piazza Cavour insomma non so dove dove c'è la passeggiata ex passeggiata Zambrotta per intenderci è stato fermato di multato lì ecco come dire io non l'ho condivisa all'inizio quella misura ma figuriamoci oggi col turismo in qualche modo ma poi che fastidio danno 10 pescatori che pescono secondo me è un'immagine anche bella della nostra città storica della nostra città quindi vuole dire si può vietare magari un pezzo ma pensare come dire parliamo di numeri particolarmente ridotti di togliere la possibilità di pescare soprattutto in questo momento credo che sia estremamente sbagliato insomma io lo lascerei a prescindere ma figuriamoci oggi il riferimento era proprio lì era la situazione quindi che fa riferimento allora al regolamento della polizia locale non c'entra nulla con l'emergenza sanitaria io sono andato a pescare con mio figlio domenica e quindi non si può pescare lì ma perché questo regolamento lo vieta e va modificato questo regolamento limitiamo se vogliamo una parte non lo condivido dove sei andato a pescare io sono andato a pescare la geretta un po' più facile ok va bene quindi oltre ex atleta anche ex pescatori ho portato mio figlio a pescare ti saluta Patti dal Bavilla salutiamo il nostro amico Carmine siamo arrivati praticamente alla fine sperando di avere settimana prossima un audio ancora migliore perché molti ci hanno detto che avevano dei problemi per la ricezione il nostro Alessandro Canali stava cercando di controllare alcuni non l'hanno captato bene in cuffia funziona benissimo in radio abbiamo assolutamente perfetto l'audio evidentemente chiediamo scusa ovviamente per coloro che ci hanno seguito in diretta facebook siamo alla fine Alessandro Fermi un minuto allora a disposizione per i saluti Alessandro per questa fase 3 torniamo mercoledì torniamo ancora ci saremo almeno ancora nelle prossime settimane perché vogliamo dare sempre questa linea diretta con la regione con il presidente appunto e consiglio la prossima settimana avremo il tema della didattica insomma perché ci avviciniamo verso il 15 il tema dei campestivi il tema di maturità e per cui ci sarà quel tema lì che guarderà secondo me anche verso settembre verso la riapertura delle scuole qualche informazione in più la potremo anche dare ecco nel frattempo mi raccomando sempre cautela perché ecco diciamolo che appunto però se si sta attenti nessuna paura per cui non bisogna avere paura se si sta attenti quindi andare anche al bar al ristorante senza nessuna paura senza nessuna paura se si sta attenti non c'è l'avere paura di nulla mascherina mascherina lasciamoci le mani un po' più spesso ormai abbiamo imparato come vivere questa nuova normalità salutiamo e ringraziamo Alessandro Fermi anche oggi graditissimo ospite qui a Ciao Como come sempre è un grande piacere Alessandro grazie buon lavoro ti aspettiamo la prossima grazie a voi grazie grazie oggi le storie sono stories